Altro traguardo di prestigio per il pizzaiolo tarantino Silvio Buttazzo, titolare della pizzeria Piazzetta Giosa Sava. In qualità di coordinatore del Team Puglia dell'Accademia Nazionale Pizzadoc, sarà presente alla 77esima mostra del Cinema di Venezia, dal 2 al 12 settembre, insieme a Ivan Forleo, pizzeria Villa Reale, Francavilla Fontana, e Angelo Galati, pizzeria La Distilleria San Pietro Vernotico. Silvio Buttazzo sente il dovere di ringraziare i partner commerciali che hanno supportato l'iniziativa, birra Salento, pomodoro Rosso Gargano, pelati di Puglia e caseificio Gioia Bella. E' certamente un'occasione per la valorizzazione del territorio, dopo la splendida esperienza del Festival di San Remo, ecco la mostra del Cinema di Venezia. Gli attori, provenienti da vari paesi, nonché visitatori e turisti, potranno gustare le pizze sfornate dal Team Puglia, collocando la nostra regione e la nostra provincia in una dimensione internazionale. La professionalità, il desiderio di crescere attraverso il costante aggiornamento, la capacità di fare squadra con gli altri operatori commerciali e del settore, sono il segreto di un prodotto sempre più competitivo e più vincente, che Silvio Buttazzo e i suoi colleghi del Team Puglia hanno saputo portare in sedi ed ambiti che fanno di loro un vero fiore all'occhiello, un punto di riferimento del territorio. Ma la storia non finisce qui, con la mostra del Cinema di Venezia. Altre sorprese sono pronte, è proprio il caso di dire, per essere sfornate.